E' iniziato poco il secondo tempo della seconda giornata del torneo Sanazzaro, Stella Rossa contro Atletico San Lorenzo, il parziale è sempre di 0-0 ma dobbiamo dire che non sono per niente mancate le emozioni della prima frazione. Molte le chance da una parte e dall'altra, una traversa da segnalare per la Stella Rossa, il cucchiaio splendido da parte di Tivaio che ha superato il portiere Santa Maria ma si è stampato sulla traversa. Santa Maria autore di grandi interventi, davvero una bella partita, molto piacevole, le compagini si stanno affrontando a viso aperto. Vediamo adesso in possesso di palla il San Lorenzo, anche se gestisce troppo il pallone all'indietro sulla linea difensiva. Adesso vediamo in possesso di palla Arpino, pallone che viene lanciato a cercare una vecchia conoscenza del torneo, vale a dire Salvatore Martino, anticipato però ci sarà l'angolo, Arpino. Il cross buono, la palla che viene controllata, poi però persa in un secondo momento da Regina, il cross di Regina ad allargare il gioco, la palla che viene intercettata. Occhio a Tivaio nel cerchio di centrocampo, prova a superare un avversario, non riesce a servire il compagno d'Enrico e allora con calma può impostare l'atletico San Lorenzo. Cerchio di centrocampo, viene fermato ancora una volta Regina e Vincenzo. Come vedete la partita ha ritmi elevati e sicuramente le due compagini si stanno affrontando a viso aperto. Occhio adesso al contropiede, la parte della Stella Rossa che viene però fermata. Buona questa proiezione offensiva per il San Lorenzo, spaziale, che ha avuto una grande occasione nel corso del primo tempo, dopo aver saltato porchiere e difensore ha concluso a botta sicura, ma ha trovato incredibile respinta sulla linea di porta, la parte di Manzueto, non è stato preciso in questa circostanza, eccolo proprio in possesso di palla spaziale, spaziale, tiene il pallone sul destro, ancora spaziale, all'indietro, prova Arpino, scucchiaiata all'uscita del portiere che non la trattiene, non c'è nessuno però vicino, ultima azione, poi interromperemo il nostro collegamento, prova ad andare la Stella Rossa, con calma si gira, dovrebbe essere Divaio, temporeggia, palla all'indietro, incesfica sul pallone Liguori, poi riesce a metterla dentro, blocca il portiere, allora vediamo questa azione con Martino, potrebbe allargare, palla all'indietro, potrebbe esserci la conclusione, un diagonale, la palla chiusa, attenzione, contropiede due contro due, potrebbe anche provare la conclusione, il numero 15, pallone Liguori, conclusione che arriva, ribattuta, interrompiamo qui il nostro collegamento, 0-0 il parziale. Spaziale Alessandro, viola in campo per l'Atletico San Lorenzo, vittoria per 2-1, allora raccontaci un po' questa gara, com'è andata, una partita che avete vinto comunque con merito? Sì, certamente, è stata una partita durissima, ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta, con grinta, tanta volontà, siamo stati un po' in difficoltà su 2-1, però ce l'abbiamo fatta fortunatamente. Senti, San Lorenzo a cosa punta per questa sessione estiva? Secondo te cosa si può fare? Speriamo che il più in alto possibile, poi come va va. La squadra come ti è parza? Vi trovate bene? Sì, bene, soltanto dobbiamo lavorarci un po' su e chissà. Migliorare, va bene, grazie. Ciao.